A pochi mesi dal rilascio, ChatGPT ha davvero rivoluzionato il mondo dell'intelligenza artificiale e del modo in cui ci rapportiamo al computer, al machine learning, a tutte queste tematiche. Ancora di più è destinato a fare ChatGPT 4, rilasciata più di recente da OpenAI, che ha portato le interazioni con l'intelligenza artificiale a un altro livello, però a pagamento. È accessibile infatti soltanto agli abbonati di ChatGPT Plus, 20€ al mese. Salvo che non utilizzi il metodo di cui ti parlerò in questo video immediatamente dopo la sigla. Benvenuto in questo nuovo video, come ti accennavo parleremo di modalità alternative per utilizzare ChatGPT 4 gratuitamente e soprattutto legalmente, senza dover appunto sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus. Due metodologie te le ho già raccontate in un video precedente che ti lascio qui sopra e qui sotto nella descrizione. Mi riferisco naturalmente alle implementazioni di ChatGPT 4 nei prodotti Microsoft, quindi principalmente in Bing, che è il loro motore di ricerca, e nel browser Edge. Ma in questo video vedremo una soluzione alternativa, che non passa attraverso i servizi Microsoft. Prima di arrivare però al punto, ci sposteremo per vederlo naturalmente al mio computer, ti devo però chiedere un favore, che a te non costa nulla ma per noi è davvero molto molto importante, ovvero aiutare questo canale a crescere, dando un like a questo video nel caso ti piaccia, condividendolo con tutti i tuoi amici e iscrivendoti a questo canale, attivando anche la campanellina delle notifiche per sapere in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Sono tutte cose che a te non costano assolutamente nulla ma per noi sono davvero molto importanti ai fini dell'algoritmo di YouTube. Dopo averti doverosamente ringraziato, nel caso tu decida di fare una delle cose che ti ho richiesto, e ricordarti naturalmente che per qualunque chiarimento, dubbio, perplessità, puoi lasciarmi un commento qui sotto e ne parleremo insieme, direi di spostarci rapidamente al personal computer per vedere questa metodologia di accesso gratuita, lo ripeto, gratis, a ChatGPT4. Allora, come sicuramente ben sai, ChatGPT offre sostanzialmente due tipologie di piani, uno gratuito, che è quello che è più utilizzato per evidenti motivi, e uno pagamento. La versione che utilizzi se hai il piano gratuito di ChatGPT al momento è la 3.5, che è quella che stai vedendo ora nel video. Per poter usufruire della versione di ChatGPT4, che è la più avanzata, la più intelligente, se mi passi il termine, devi sottoscrivere necessariamente, almeno per il momento, un abbonamento, un piano pagamento, che si chiama GPT+. Ecco qui, questa è la versione gratuita che sto utilizzando io in questo momento, e questa è la versione di ChatGPT+, che costa 20 dollari o 20 euro al cambio, fanno un cambio 1 a 1 al mese, e ti offre una serie di funzioni e servizi in più, compreso per l'appunto l'utilizzo di ChatGPT4. Quindi, teoricamente, se tu non hai l'abbonamento a ChatGPT+, non puoi utilizzare questa versione aggiornata di ChatGPT, ripeto, almeno per il momento, probabilmente in futuro verrà implementata. In realtà ci sono due modalità per poterla comunque utilizzare e usufruire delle enormi potenzialità di questo nuovo sistema di intelligenza artificiale. Uno te l'ho mostrato in un video che ho caricato qualche giorno fa, te lo lascio qui sopra, ma trovi comunque nella playlist dedicata all'intelligenza artificiale e tutte le informazioni, ovvero utilizzare Edge come browser, che ha un pulsante integrato per interrogare ChatGPT, oppure Bing, se vuoi utilizzare un altro browser, puoi farlo tranquillamente anche da Chrome, piuttosto che da Safari o qualunque altro browser, ti basta collegarti a Bing, utilizzare Bing come motore di ricerca, e grazie alla partnership tra Microsoft e OpenAI puoi utilizzare per l'appunto una versione adattata specificamente per Microsoft di ChatGPT4 che si chiama Prometheus. Comunque, quelle che ti ho appena linkato sono le due modalità più semplici, più facili, più comuni, più conosciute per poter utilizzare ChatGPT4 senza sottoscrivere l'abbonamento a ChatGPT+. C'è però un altro sistema, che è quello che andiamo a vedere ora. Ci spostiamo da ChatGPT, dove siamo ora, a NAT.dev. Eccoci qui, è veramente basico, ridotto, non all'osso di più, la schermata. Ti chiede semplicemente appunto di fare i login o la registrazione, puoi continuare con Google, oppure inserire il tuo indirizzo mail, la relativa password, accedere. Se non hai già un account, lo dovrai creare. Ti chiederà nuovamente o di accedere tramite un account Google, oppure di indicargli un email e un numero telefonico per continuare. Io ho un account, l'ho creato naturalmente per provare questo playground, perché come vedi si chiama questo sito OpenPlayground, e di conseguenza accedo con il mio account Google. Una volta dentro mi troverò in questa schermata, playground appunto. Letteralmente il playground, come sicuramente saprai, è un terreno di gioco, quindi uno spazio in cui mi posso allenare, perché a questo serve questo sito, a allenarti con i vari sistemi di intelligenza artificiale, a provarli, a testarli, per determinare qual è quello che fa più al caso tuo. E qui, prima di continuare, permettimi di lanciare un appello, ovvero utilizzalo davvero, principalmente per testare quale tipologia di intelligenza artificiale è più specifica per la tua esigenza, non approfittarne per sfruttare a sbafo le funzionalità di GPT-4, perché così come i creatori del sito lo hanno aperto e reso disponibile gratuitamente a tutti, in un futuro potrebbero decidere che non è più così, magari perché qualcuno, appunto, in eccesso ne ha approfittato e, come si suol dire, per colpa di pochi ne pagano in molti. Quindi, mi raccomando, coscienza quando lo utilizzi. Chiuso parentesi. Allora, cosa vediamo in questa schermata? Vediamo uno spazio molto ampio in cui puoi inserire un testo o farlo elaborare o tutto quello che vuoi tu di quello che necessiti. Qui il modello di intelligenza artificiale che vogliamo utilizzare. Come vedi, ce ne sono veramente un'infinità, quelli di Forefront, Open Playground, Hugging Face, Anthropic, Coher, ChatGPT 4, eccolo qua, ChatGPT 3.5 Turbo e vari altri. Noi nello specifico possiamo determinare quindi quale sistema di intelligenza artificiale utilizzare per i nostri prompt, per le nostre esigenze. E decidiamo per ChatGPT 4. Subito sotto abbiamo la lunghezza massima che vogliamo ottenere. Possiamo andare da un minimo di 50 a un massimo di 1024. Poi altri valori che non sto qui ad approfondire perché non vuole essere questo un video di approfondimento dettagliato su questo sistema quanto piuttosto un tutorial che ti dà qualche indicazione su come utilizzarlo o poi testarlo tu personalmente. Volevo arrivare al punto in sostanza. Questa è la prima funzione quindi noi qui possiamo chiedergli un determinato argomento, chiedergli di effettuare una determinata cosa. Possiamo chiedere in italiano, in inglese, in qualunque lingua che ovviamente la comprende. Chiediamogli ad esempio di proponimi 5 idee per dei video YouTube sull'intelligenza artificiale. Ripeto, io sto utilizzando in questo momento come modello linguistico CRDGPT4. Andiamo a dargli il comando e lui lo sta generando. Eccolo qui. Queste sono le 5 proposte in risposta alla mia richiesta. Se vogliamo andare oltre possiamo chiedergli sviluppa il video dell'idea numero 3. Ok, ha creato uno schema di base per questo mio potenziale video. Ecco qui. È tutto in italiano perché io la domanda glielo posto in italiano se li avessi posti in inglese naturalmente lui lo avrebbe generato in inglese. Questo quindi è un normalissimo utilizzo dell'intelligenza artificiale. possiamo fargli fare le cose che gli facciamo fare abitualmente tramite l'interfaccia CRDGPT ma in quest'altra interfaccia e utilizzando anziché CRDGPT 3.5 CRDGPT 4 come vedi qui. La parte più interessante arriva per ora quindi se sei rimasto con me fino adesso verrai premiato. Mi riferisco alla pagina compare comparativa quindi dove possiamo mettere a raffronto due o più intelligenze artificiali per verificare le rispettive risposte. Io ovviamente vado subito al succo e quindi ho messo OpenEI GPT 3.5 Turbo e OpenEI GPT 4 le due versioni. Però qui sotto come puoi vedere hai veramente una vastità di modelli linguistici di intelligenza artificiale di machine learning tra cui scegliere e che puoi a tuo piacimento aggiungere. Noi vogliamo tenere queste due qui perché sono quelle che ci interessano. Andiamo alla ciccia. Qui hai vari parametri quindi la lunghezza del testo che dicevamo prima temperatura top P top K eccetera eccetera ha varie funzioni. Veniamo al dunque. Mettiamola alla prova con qualcosa di relativamente complicato. Ad esempio scrivi una canzone d'amore che abbia come tema le criptovalute e sia composta esclusivamente da parole che iniziano con la L una follia però voglio vedere appunto come reagiscono i due sistemi di intelligenza artificiale. A sinistra abbiamo chat GPT 3.5 a destra chat GPT 4 vediamo come vanno. Allora vediamo subito nessuno delle due in realtà ha portato al termine il compito che io gli ho dato nella maniera più corretta però era veramente una follia una canzone d'amore sulle criptovalute con parole che iniziano per L chat GPT 3.5 scrive lasciami parlare d'amore quindi qua già ci siamo persi lungo blockchain ci incontrammo Litecoin Lumen e anche Litecoin li comprammo insieme sullo shop Loft a Manhattan Lambo in garage lontani dalle banche con coraggio libertà finanziaria per sempre eccetera eccetera la L è bella che è andata effettivamente per quanto è anomale è una canzone d'amore ma Open AI GPT 4 fa meglio non perfetta neanche lui molto meglio ci ha piegato più tempo come puoi vedere ci ha piegato 22 secondi contro gli 11 dell'altra modalità è una canzone un po' più corta però lasciati lusingare l'amore liquido e vabbè l'amore purtroppo luminoso lume le criptovalute lontano l'orizzonte l'innovazione ludica liberi lasciamo la passione lucida lieve l'anima e c'è di nuovo perdo di nuovo la L leggera la blockchain non poteva definirla altrimenti l'abbraccio lieve lunare l'incanto eccetera eccetera come vedi però è andato a generare qualcosa di molto più affine a ciò che io gli avevo chiesto se proviamo a scriverglielo in inglese vediamo se è più a fuoco più mirato nell'obiettivo che gli abbiamo richiesto ovviamente anche la canzone sarà in inglese anche in questo caso fatica un po' entrambe le versioni non hanno raggiunto esattamente l'obiettivo che io gli avevo posto come già prima chat gpt4 ci è andata più vicino però cambiano i tempi chat gpt3 ci ha messo 6 secondi chat gpt4 ci ha messo 20 e la lunghezza dei caratteri più o meno è affine comunque chat gpt3 vediamo quante parole con la l dunque vabbè già qua la a da sola ok la in line quindi i of code above quindi ce l'abbiamo già persa la seconda riga vediamo chat gpt4 la prima riga sono tutte parole con la l la seconda anche la terza idem la quarta mi cade su delight però insomma già molto meglio languin luxe love luminary eccetera 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 è andata molto più vicino all'obiettivo che io gli avevo posto rispetto al corrispettiva versione 3.5 ora passiamo a qualcosa di più pratico e reale io sono residente nell'astigiano in piemonte quindi ora gli chiedo come se fosse un turista di visitare asti ho tre ore per visitare asti indicami un percorso che parta e arrivi in quella finestra oraria dalla stazione ferroviaria e indicami anche dove si trova la suddetta stazione ora tutte queste cose adesso già perché ci vivo però voglio vedere se lui le sa anche in questo caso come puoi vedere chat gpt 3.5 ci ha messo molto meno tempo ad arrivare al risultato chat gpt 4 ci ha impiegato più tempo però è molto più accurato come andremo a vedere ora vediamo prima di tutto se sono corretti i dati che ci riporta così facciamo anche un po' di promozione turistica asti che a margine è una bella città non è conosciutissima magari dai grandi circuiti turistici ma vale la pena venite a trovarci ci ho detto la stazione ferroviaria di asti si trova nel centro della città si relativamente quindi puoi tranquillamente iniziare il tour a piedi da lì in tre ore ti consiglio di visitare piazza alfieri con la torre troiana e palazzo mazzetti e già qua cadiamo malissimo perché in piazza alfieri non ci sono né la torre troiana né palazzo mazzetti che sono esistenti ad asti ma in tutta altra zona della città in piazza alfieri c'è solo il monumento vittorio alfieri la cattedrale di santa maria assunta che esiste ma non è esattamente vicinissima a piazza alfieri il mercato coperto chiamato mercato albinelli che l'ho inventato lui di sana pianta che è un'esperienza autentica e gustosa del patrimonio enogastronomico locale esiste il mercato coperto ma non è questa esperienza così coinvolgente se hai tempo visita anche il complesso monumentale medievale del battistero di san pietro passeggia lungo il corso vittorio alfieri che esistono e possono essere effettivamente interessanti però qui non ci dà nello specifico dei tempi e di percorrenza per sfruttare al meglio le tre ore che gli ho indicato io vediamo invece c'è il gpt4 che è stata molto più accurata la stazione ferroviaria di Asti si trova in piazza Guglielmo Marconi 1 è corretto questo è un itinerario di tre ore per visitare Asti parte dalla stazione ferroviaria e cammina per 10 minuti lungo corso vittorio alfieri fino a raggiungere la cattedrale di Santa Maria Assunta è corretto e mi indica anche il minutaggio per visitarla 20 minuti e ci può stare prosegui per 5 minuti a piedi verso piazza San Secondo dove troverai la chiesa di San Secondo anche in questo caso è corretto cammina per 5 minuti fino a piazza del Paglio un'area storica conosciuta per la sua corsa a cavalli e l'evento annuale in realtà si effettivamente ci si correva al Paglio ma non è propriamente così storica quella piazza è un grande parcheggio ce l'ho aperto però concediamoglielo prosegui per 5 minuti a piedi fino alla torre Troiano una torre medievale che offre una visita panoramica sulla città è tutto corretto diciamo che probabilmente non lo può sapere perché è un'intelligenza artificiale ma ha dei limiti non farei questo ping pong fra piazza San Secondo piazza del Paglio e ritorno alla piazza Medici dove si trova la torre Troiana perché è molto più vicina a piazza San Secondo è più sensato andarci direttamente comunque corretto cammina per 10 minuti fino al museo del risorgimento della Resistenza situata in piazza San Martino prosegui 5 minuti a piedi fino a parco della Resistenza un parco cittadino dove puoi rilassarti e godere un po' di natura è corretto non tanto nel minutaggio perché da piazza San Martino ci vogliono probabilmente più di 5 minuti cammina per 15 minuti lungo corso Vittorio Alfieri passando per piazza Roma fino a raggiungere il nuovo la stazione ferroviaria questo itinerario ti permette di eseditare i principali punti di interesse in 3 ore eccetera non è proprio tutto correttissimo come distanze come tempi però rispetto c'è di GP3.5 è molto più accurato molto vediamo qualcosa di ancora differente proviamolo a metterlo alla prova nella generazione ad esempio di Claim crea 5 slogan efficaci per promuovere la pizzeria Capumarola in coppa mi scuseranno i napoletani se non è scritto correttamente non sono napoletano però mi piaceva il nome vediamo cosa si inventa sono stati relativamente bravi entrambi io non ho assolutamente detto che è una pizzeria napoletana di fatto lo è perché la pizza è un piatto tipico napoletano però sappiamo che ormai viene realizzata un po' ovunque anche da pizzaioli che Napoli non hanno mai vista neanche col cannocchiale però lui ha deciso che è napoletana sia nella versione 3.5 che nella 4 puoi vedere gli rispettivi slogan non sono eccezionali nell'uno nell'altro caso ma comunque rendono l'idea forse quelli appunto già di cpt4 sono un filo più accurati io ora però gli chiedo una variante 5 slogan grotteschi e sarcastici per promuovere la pizzeria Capumarola in coppa allora vediamo un attimo gli slogan mangia la nostra pizza e dimentica i tuoi problemi almeno per un po' la nostra pizza è così buona che venderemo anche l'anima al diavolo per mantenerla segreta se vuoi la vita piena di gusto vieni da noi a Capumarola in coppa e ordina la tua pizza preferita dopo aver provato la nostra pizza sarai dipendente avvisiamo subito i tuoi familiari non ci interessa se diciamo pizza o puzza non si può negare il nostro sapore delizioso ecco questo magari non lo sfrutterei gli altri sono tutto sommato gradevoli carini openai gt4 invece propone Capumarola in coppa dove la pizza è così buona che ti farà dimenticare il tuo senso dell'umorismo vieni a Capumarola in coppa perché la vita è troppo breve per mangiare pizza mediocre questa era un po' rubacchiata ma è carina Capumarola in coppa l'unico posto dove le pizza sanno ridere di se stesse grottesca effettivamente mangio bevi e ridi Capumarola in coppa la pizzeria che ti fa venire voglia di dire ma che pizza capumarola in coppa la pizzeria che fa invidia a tua nonna non si sa bene per quale motivo ma evidentemente lui trovava interessante divertente allora scrivi 5 slogan variamolo ancora 5 slogan con tono drammatico e pessimista per promuovere la pizzeria Capumarola in coppa ecco come vedi c'è un limite giornaliero di utilizzi che puoi fare di questo comparatore e di chat gpt4 io l'ho raggiunto per fare questo test insieme a te quindi devo necessariamente fermarmi per un tot di ore questo ci riporta al discorso che facevamo all'inizio del non abusare di questo sistema di comparazione perché giustamente dovrebbe servire semplicemente ad integrazione e per verificare quale tra le varie intelligenze artificiali disponibili sul mercato fanno più al caso nostro e una volta determinato questo eventualmente acquistare un pacchetto premium se vogliamo utilizzare in modo professionale quindi questa è soltanto una dimostrazione diciamo che a piccole dosi ti può consentire di utilizzare chat gpt4 se non vuoi ricorrere alle altre metodologie disponibili ovvero comprare un abbonamento a chat gpt plus utilizzare edge come motore di ricerca che ha le funzioni di chat gpt4 in versione prometheus integrate oppure utilizzare bing come tuo motore di ricerca e appunto usufruirne nella quotidianità per fare delle interazioni con chat gpt4 versione prometheus sempre per questo video è tutto per quanto riguarda però il mondo dell'intelligenza artificiale chat gpt ma non soltanto c'è ancora tantissimo da dire lo faremo in video che verranno pubblicati prossimamente se sei interessato a questo argomento e vuoi entrare a fare parte della nostra community io ti invito a lasciare un like a questo video a iscriverti a questo canale attivare la campanellina delle notifiche condividere il video con tutti i tuoi amici e lasciarmi un commento qui sotto per dirmi se il video ti è piaciuto quali altri argomenti correlati all'intelligenza artificiale vorresti che affrontassimo prossimamente sul canale eccetera 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 insomma cresciamo insieme è davvero tutto ti ringrazio per averci seguito fino qui e ti rimando al prossimo video sempre qui su Takeaway spets e in di Grazie a tutti.